Ciao a tutti, io sono Edileo04 e oggi sono qui a fare questo video per domandarvi cosa portare nei prossimi video perché sapete che il mio canale è appena iniziato e ho fatto anche un video precedente dove parlavo di Crash Royale ma non era molto importante perché anche a me non era che mi è piaciuto molto ma era solo per iniziare e quindi vorrei anche chiedere delle domande che voi potete fare a me qui sotto nei commenti di cosa portare sulla Playstation 4, cosa farne e se volete giochiamo anche online. Ora vi presento i giochi della Playstation 4 che potrete portare nei prossimi video tipo di Skylander che è un gioco molto divertente, molto bello con un gran passatempo, simpatico. Poi c'è Watch Dogs 2 Deluxe Edition che è bello anche questo, molto molto bello. ve lo potrete portare anche questo se però non è un problema. FIFA 17 che è anche questo bellissimo. Poi c'è i Call of Duty Uncharted Warfare che è bello ma vi dico una cosa che io non sono molto bravo con giochi di sparatoia e questa roba qua. Poi abbiamo Fallout 4, poi abbiamo anche Mortal Kombat XL e abbiamo anche Call of Duty Block Up 3 solo che l'ho presentato di un amico che lui mi ha dato Fallout 4 cioè poi dopo quando finisce almeno la giro da là. E vi vorrei anche dire che c'ho GTA 5 scaricato sulla Braille 4 direttamente, non ce l'ho fatta a disco. Poi c'ho altri giochi che non mi sto a dire perché non me ne ricordo. I nomi però sono molto molto belli. È un passatempo. E vi vorrei dire che se vorreste fare causamente dei confronti con FIFA 17, con FIFA 16, ve li faccio dopo almeno non c'è un problema. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Ah, dimenticavo, forse con dei miei amici farò delle challenge che forse voi mi potreste consigliare. Li farò anche con BigBoom99 che è uno youtuber, un gran mio amico che mi aiuterà anche lui per iniziare questo canale. Poi Skipper che è anche lui mio grande amico e forse apparirà molto nel mio video. Poi Nick04 che è un altro mio amico. Ora non vi sto a presentare tutti i miei amici perché ce ne sono. E quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando mettete pollici su per dirmi che vi è piaciuto. iscrivetevi al canale e datemi un benvenuto su YouTube. Dai ragazzi, altrimenti mi scoraggio perché dai, dai su metteteli questo mi piace. Anzi metteteli ora, ora. Dai, ora carico questo video. Prossimamente ci sarà un video sulla PlayStation 4 e voi dovete scegliere tra questi giochi. i miei amici. Cioè, Mortal Kombat XL, Fallout 4, FIFA 17, Call of Duty, Call of Duty, Academy Warfare, Olch Dogs 2 Deluxe Edition, Skylander e FIFA 16 se volete fare il confondo con FIFA 17. Poi vorrei dire anche che ho l'Xbox 360, ma non è che conta molto. E niente. Ora vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Vi vorrei anche dire che mi scuso per la brutta visuale e la voce perché comunque sto utilizzando il cellulare per fare video. Anche se so che non è un cellulare per fare dei video, però mi devo accontentare di questo perché se arriviamo ad un punto di iscritti, ad un punto di like, ad un punto di visualizzazioni, può essere... No, anzi vi prometto che quando arriveremo, perché ce ne vuole un po', se arriveremo a 60 like, un po' troppo... Allora, se arriveremo a 20 like, vi farò una challenge con i miei amici, oppure viceversa tra play 4 challenge. Dopo i 20 like, se poi arriveremo ai 50 like, ancora meglio. Allora, comunque a 60 like, io mi comprerò una buona telecamera e un buon microfono. Così mi sentirete bene. E farò anche dei video migliorno, così, in camera mia. Va bene, tutto questo sul mio canale. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo. Ciao ciao!